E' illegittimo il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno attraverso la sua conversione da permesso per minore età in permesso per lavoro subordinato. La disciplina modificativa dell'articolo 32 del decreto legislativo numero 286 del 1998 introdotta dalla legge numero 94 del 2009 non può trovare applicazione nei confronti dei minori non accompagnati già entrati in Italia prima della sua entrata in vigore, 8 agosto 2009 e che compie nel diciottesimo anno di età senza che sia possibile il completamento del progetto di integrazione sociale e civile di durata biennale.